Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Dolore e sgomento a Fano per la tragica scomparsa di Filippo Palazzi il 44enne ciclista amatoriale morto d'infarto durante una gara in Romagna Scuola dell'infanzia presa di mira dai ladri, è il secondo furto in una settimana i genitori dei piccoli alunni protestano, il comune corre ai ripari Chi non conosce la storia produce questi risultati imbrattate senza ritegno gran parte delle mura romane nella zona del Pincio e per ripulirle il comune, cioè i cittadini, dovranno pagare 10.000 euro Più di 2.000 persone a Fano hanno sfilato per le vie cittadine per dire no a tutte le mafie Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV al nostro telegiornale Il Tg si apre questa sera con la tragedia che si è consumata in Romagna e che ha visto la morte di un fanese di 44 anni, un ciclista amatoriale Filippo Palazzi che è stato stroncato da un infarto durante una gara ciclistica È in lutto il mondo del ciclismo fanese per la perdita di Filippo Palazzi Deceduto domenica mattina durante una gara ciclistica amatoriale il quinto Gran Premio Globauto che si stava disputando nella vicina Romagna a fiumicino di Savignano sul Rubicone in provincia di Forlì-Cesena Quella di Palazzi, 44enne di Fano, era una passione che coltivava da anni eppure il destino ha voluto che i suoi ultimi istanti di vita fossero proprio in sella alla sua bici da corsa È accaduto intorno alle 8.45 quando al secondo giro all'altezza del Civico 900 di Via Bastia ha iniziato a sbandare, si è accasciato all'improvviso ed è caduto a terra I soccorsi sono stati immediati e gli organizzatori hanno subito interrotto la gara annullando anche quelle successive che avrebbero coinvolto centinaia di ciclisti per tutta la mattinata I medici hanno tentato di rianimarlo praticando un massaggio cardiaco per una ventina di minuti ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare è morto all'ospedale Bufalini di Cesena dove è giunto in gravissime condizioni A tradirlo è stato il suo cuore nonostante solo i tre giorni prima della competizione aveva portato il certificato medico che autorizzava l'attività agonistica secondo alcune testimonianze Palazzi si era sempre sottoposto ai dovuti controlli ma con molte probabilità si sarebbe trattato di un arresto cardiaco per chiarire con esattezza le ragioni del decesso è stata disposta l'autopsia sul corpo di Filippo è ancora da stabilire quindi la data dei funerali molto conosciuto in città per la sua passione sportiva insieme al fratello Michele gestiva due negozi di biciclette e attrezzature per lo sci lungo la statale adriatica Lido di Fano e in Viale Dante Leghieri in zona Sassonia la notizia della tragedia è rimbalzata a Fano fin dalle 9.30 quando è stata informata la sua famiglia nelle ore successive poi in tanti hanno voluto lasciare un ricordo una foto, un pensiero sul suo profilo Facebook quella pagina dove spesso caricava immagini in cui lo ritraevano in sella alla bici e insieme alla sua famiglia alla quale era molto legato Palazzi lascia la moglie Nada è un figlio di 11 anni e una studentessa di 21 anni Sara Buccolini di Macerata iscritta alla facoltà di architettura a Ferrara è morta dopo aver corso una gara podistica non competitiva di 6 km la Family Run della città emiliana la ragazza si era accasciata al suolo appena terminata la corsa subito i soccorritori avevano percepito la gravità delle sue condizioni che da quel momento non ha più ripreso conoscenza oggi è morta nel reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Anna di Cona e come avete sentito poco fa nel servizio di Simona Zonghetti Filippo Palazzi aveva accusato un malore nonostante si fosse sottoposto ai dovuti controlli avesse portato il certificato medico che autorizzava l'attività agonistica noi oggi abbiamo voluto ascoltare abbiamo voluto sentire il parere di un medico dello sport sentite A che tipo di controlli deve sottoporsi un ciclo amatore? Sì, ciclo amatori hanno i controlli come gli atleti in ormai nel senso di fare una visita tipo B e quindi hanno elettrocardiogramma di base eventualmente la prova col gradino la spirometria e una buona visita che comprende anche un'anamnesi perché è ovvio che poi gli esami da fare li deve decidere il medico sulla base del paziente per esempio a una certa età 35-40 anni diventa sicuramente raccomandato quasi insomma obbligatorio fare anche una prova da sforzo massimale e poi bisogna fare un profilo di rischio complessivo dell'atleta del soggetto specie se in età avanzata perché potrebbe già prendere farmaci avere problemi anche di tipo metabolico dislipidemia diabete questo tipo di problematiche Ecco ma come è possibile che una persona superi tutti questi accertamenti e poi accusi un malore pochi giorni dopo aver superato i controlli? Sì, purtroppo la morte è improvvisa qui non abbiamo ancora il dato preciso topico di quello che è successo a questo signore qua questo atleta e a tante cause potrebbe essere stata una rottura di aneurisma perché magari con un picco pressorio con le salite possibili sapere appunto gli stili di vita adeguati eventuali familiarità è successo anche professionisti del calcio che oltre a questi controlli fanno già un'icografia che per esempio potrebbe permettere di scoprire altri tipi di anomalie che portano alla morte improvvisa la morte improvvisa non è sempre solo l'infarto può dipendere dall'origine anomala delle coronarie da una malattia degenerativa del cuore anche dopo una semplice virosi Zeppilli che è un po' il padre della cardiologia sportiva per esempio anche in convegni fatti anche qui nelle Marche dava indicazioni che dopo un'influenza bisognerebbe fare almeno 15 giorni di riposo e quando si riprende se uno si sente stanco non si sente in forma bisognerebbe fare delle verifiche la morte improvvisa è molto diminuita in Italia perché si fa un grosso progetto di screening e si scoprono forme malformative e la medicina sportiva in Italia ha permesso di scoprire malattie che non si conoscevano proprio grazie a questo lavoro tutta la popolazione ma non possiamo escludere in assoluto la possibilità della morte improvvisa Ennesimo furto alla scuola Manfrini di Fano le mamme insomma i genitori di questi piccoli alunni si dicono preoccupati adesso per la sicurezza dei loro figli e chiedono per esempio in questo caso specifico di correre in qualche modo ai ripari di fare degli interventi strutturali per esempio mettendo delle inferiate in questo edificio scolastico e l'installazione di telecamere Sono esasperati i genitori dei bambini che frequentano la scuola materna Paolo Manfrini in via della Marina Fano dopo l'ultimo furto messo a segno nella notte fra giovedì e venerdì scorsi questa mattina l'apertura della materna i dipendenti e le famiglie hanno avuto un'altra brutta sorpresa i ladri hanno fatto irruzione per la quarta volta nel giro di tre settimane una situazione che fa preoccupare le mamme come ci racconta la presidente del consiglio scolastico chiediamo che venga fatta qualcosa per tutelarci in qualche modo ma sono i nostri bambini quello è il nostro futuro il nostro bene più prezioso noi dovremmo essere tranquille di lasciarli in un luogo sicuro con persone che comunque ecco prendono a cuore proprio la loro tutela non solo l'istruzione o comunque insegnare le cose più legate alla didattica ma proprio che tutelino la loro vita e la loro salute in termini soprattutto di igiene perché stanno entrando persone che noi non sappiamo se possono essere malate sporche toccano le cose con cui vengono a contatto i nostri bambini cioè è una cosa inconcepibile inconcepibile ecco ma i vostri bambini se ne rendono conto di quanto sta accadendo ma certo ma certo la mia bambina che ha 4 anni mi ha sentito comunque che parlavo con il mio marito che gli riferivo ho detto guarda hanno rotto la macchinetta del caffè mia figlia nella sua innocenza mi fa tutta preoccupata mamma ma hanno rotto anche i giochi ma hanno rubato i giochi cioè dai lo sentono ormai anche loro vedono i carabinieri ma insomma la mia bambina alle 4 anni deve vedere questi carabinieri a scuola insomma quindi più sicurezza più sicurezza cioè io pretendo al rientro dalle vacanze di Pasqua che ci sia qualche cosa che qualcosa sia cambiato che siano stati presi degli provvedimenti io voglio le inferiate le telecamere ma poi non sono io dover dire che cos'è io pretendo che qualcosa venga fatto e subito per ottenere risposte ai provvedimenti urgenti nei giorni scorsi le mamme avevano preparato una lettera indirizzata sia all'assessore Mascarin che al sindaco di Fanoserii una lettera che per ora hanno deciso di lasciare in sospeso dopo l'incontro avvenuto con Gabriella Peroni dei servizi educativi che questa mattina intorno alle 7 ha fatto visita alla materna tranquillizzando maestre e genitori presenti nei prossimi giorni infatti i tecnici metteranno in sicurezza le porte e le finestre dell'edificio non è escluso inoltre che venga installato anche un sistema di allarme nuovi atti vandalici sulle mura augustee del Pincio di Fano negli ultimi giorni sono comparse nuove scritte fatte da qualcuno che evidentemente non conosce il valore storico di questo monumento che ha davvero centinaia e centinaia di anni noi ne abbiamo parlato con alcuni esperti il servizio di Vino Balestra esternare i propri sentimenti o le proprie passioni non è mai una cosa negativa ma quando questo viene fatto a discapito di monumenti storici o manufatti di oltre 2000 anni fa beh questa diventa un'altra cosa è scempio è danno alla collettività nei giorni scorsi la mano di ignoti è stata armata da pulsioni grafiche a discapito delle mura augustee che ricordiamo essere tra le prime in Italia per superficie esposta e che sono patrimonio pubblico con il deprecabile risultato che ora chi vuole visitarle sa i gusti canori amorosi dello scellerato imbrattatore assolutamente qui siamo di fronte alle mura romani di più di 2000 anni fa un patrimonio storico da preservare e da non fare cioè proprio sono cose antitetiche vedere delle scritte modernissime con delle mura che risalgono al 27-28 a.C. nonostante diciamo siamo stati più volte risistemate è un disdicevole è un patrimonio da preservare perché comunque come dicevo le ragazzi o chiunque vengano qua possono toccare con mano quella che è stata una civiltà grande civiltà grande periodo imperiale quindi soprattutto la fondazione della città qui è imperiale nella nostra nella nostra zona però ecco sicuramente possono toccare con mano questo grande questo grande patrimonio un intervento di ripristino ora si rende necessario ma questo a lungo andare può danneggiare il monumento sarebbe meglio prevenire queste cose perché comunque la pulizia anche se è rispettosa è reiterata tutti gli anni diciamo che alla lunga va a danneggiare il monumento noi comunque dal 2007 che più o meno ogni tanto ripuliamo queste mura il problema è che siccome sono cose comunque protette anche dalla soprintendenza ci vuole sempre il benestare della soprintendenza quindi il comune deve fare richiesta comunicare i lavori di pulizia e quindi incaricare la ditta per cui noi come associazione anche o come ditta perché siamo sia l'uno che l'altro possiamo intervenire solo dietro un incarico ufficiale con tutti i permessi del caso interventi che grazie all'associazione che opera sotto forma di baratto amministrativo hanno costi limitati ma la musica cambia se ci si rivolge altrove non è che costi così tanto la società però normalmente chiamando ditte insomma preposte al restauro io penso che si va sui 10.000 euro come cifra con Fano abbiamo tentato di aderire al nuovo regolamento dei beni pubblici i beni comuni che è stato approvato l'anno scorso sulla legge dello sblocco Italia e ancora però siamo dietro a queste cose perché comunque abbiamo prodotto la documentazione siamo in attesa di risposta con un tipo di rapporto così diretto con il comune il comune ci dà una sede noi in cambio facciamo delle prestazioni sicuramente come ci avvisano nel giro di due o tre giorni si può procedere con la pulitura questi reperti storici sono giunti sino a noi sfidando le intemperie il tempo le calamità e le bombe della guerra speriamo che con un po' di educazione senso civico e cultura resistano anche a noi si legge nella scuola si legge nei libri a scuola leggiamo impariamo poi dobbiamo andare a vedere abbiamo la possibilità a Fano di avere questo patrimonio direi insomma che è una cosa veramente da preservare ha avuto esito positivo l'esposto alla procura della Repubblica del sindaco di Pergola Francesco Baldelli da sabato scorso infatti l'Asur ha provveduto a coprire i turni dei medici del 118 Carabinieri era iniziata con una telefonata al 112 la protesta del sindaco di Pergola Francesco Baldelli che sabato 12 marzo si era recato all'ospedale Santi Carlo e Donnino per documentare con una telecamera l'assenza di un medico a bordo dell'ambulanza nelle ore notturne da lì oltre ad un esposto alla procura della Repubblica era partito un botte risposta con il direttore generale dell'Asur Alessandro Marini secondo il quale non ci sarebbe stata alcuna anomalia e che quindi la situazione di Pergola stava rispettando la normativa vigente e invece a solo un giorno di distanza dall'esposto per interruzione di pubblico servizio l'Asur ha provveduto alla copertura del turno reintegrando il personale apprendo notizia dalla stessa classe medica che questi rimpiazzi sono giunti anche nelle postazioni di emergenza di tutto il resto della provincia quindi un ottimo risultato che ancora una volta sottolinea le mezze verità dette in conferenza stampa dal direttore generale Marini e da tutta la sua squadra e le mezze verità secondo il sindaco riguardano anche la ricerca del sito più idoneo per realizzare il nuovo ospedale il vero problema spiega Baldelli viene nascosto dalla regione quello che sta accadendo è che dietro questa finta discussione sulla creazione di un nuovo plesso ospedaliero la regione Marche e i suoi dirigenti stanno nascondendo la svendita della sanità pubblica a favore del privato che gestirà la nostra sanità quindi stanno costruendo una sanità non solo per noi ma anche per i nostri figli e probabilmente anche per i nostri nipoti che sarà completamente in mano ai privati quindi in mano a chi potrà curarsi e a discapito ancora una volta di chi non avrà le risorse economiche per poter accedere ad una sanità che è di stampo americano e non è la sanità che noi abbiamo conosciuto sino ad oggi quattro nuovi comandanti di stazione per il corpo forestale dello Stato sono arrivati nella provincia di Pesorurbino si tratta di Valeria Gallucci 34 anni marchigiana che ha preso il comando della stazione di Mercatello sul Metauro Emilia Santini 32 anni alla stazione di Pergola e di Andrea De Falco 35 anni che andrà al comando della stazione di Piobbico Andrea De Falco vice ispettore di Origini Alto Tesine mentre a Cartoceto è in arrivo Diego Saragossa proveniente da Fabriano in più di 2000 questa mattina hanno sfidato la pioggia per sfilare alla giornata regionale in memoria delle vittime di tutte le mafie musica, vessilli e striscioni per dire no a tutte le mafie grazie agli impegni assunti dal sindaco Seri che dal suo insediamento indossa il braccialetto bianco in segno della trasparenza contro la corruzione e la criminalità organizzata la città di Fano è stata scelta per ospitare la giornata della memoria e dell'impegno l'iniziativa giunta alla ventunesima edizione promossa da libera e avviso pubblico con l'alto patronato del Presidente della Repubblica è uno delle 20 iniziative in tutta Italia un riconoscimento anche per il lavoro che questa amministrazione ha fatto per la trasparenza trasparenza uguale legalità uguale responsabilità noi qua siamo tutti uniti per dire no e per fare la nostra parte in senso responsabile ed è anche un momento per non dimenticare tutti coloro che sono caduti con le mafie è un modo per dire anche ai familiari che noi non li abbiamo dimenticati li portiamo nel cuore e siamo vicini alle loro sofferenze perché chi si è sacrificato chi ha perso la vita per un giusto principio una società civile non li può dimenticare e anche questo è un significato di questa giornata di primo giorno di primavera voi noi siamo la primavera con tutto quello che esprimiamo il significato della nostra presenza le marche non sono un oasi felice detto sindaco infatti nella nostra regione sono in aumento i beni confiscati alla mafia che nell'ultimo anno sono passati da 24 a 27 sei di questi si trovano a Fano ma solo un appartamento nel quartiere Sant'Orso e nella disponibilità del comune l'utilizzo futuro dell'immobile sarà deciso entro l'anno ma si pensa ad una casa per madri sole e per i loro bambini anche in una giornata così di pioggia vedere tanti ragazzi tante ragazze con loro possiamo costruire quei ponti che servono per difenderci e per ricordare le amministrazioni comunali e le istituzioni che cosa possono fare per cercare di sconfiggere questo fenomeno dare l'esempio noi dobbiamo dare solo l'esempio dobbiamo dimostrare di essere trasparenti di lavorare sulla partecipazione vera quella consapevole quella della conoscenza del confronto quotidiano così si può mettere quell'arcine che tocca tutte le realtà anche le nostre e le amministrazioni l'anci oggi c'è ma vuol dare questo tipo di segno ci siamo perché insieme ce la possiamo fare la manifestazione alla quale hanno preso parte studenti e insegnanti amministratori pubblici forze dell'ordine sindacati e cooperative poi terminata in piazza Miani per la lettura dei nomi delle 900 vittime innocenti oggi più che mai è importante in questa giornata che vede tante piazze italiane impegnate insieme a libera avviso pubblico per ribadere ancora una volta che c'è un'Italia contro le mafie c'è un'Italia per la legalità si è conclusa oggi l'operazione di carico e trasporto di alcuni blocchi di alluminio dal porto di Fano a quello di Sestri Levante tante le persone tanti curiosi che in questi giorni hanno invaso i moli del porto fanese a tratti dalla presenza di una imponente chiatta di 60 metri ormeggiata alla banchina 11 a bordo della quale appunto sono stati caricati uno alla volta 5 blocchi di alluminio di 26 metri per 12 questi blocchi sono destinati all'assemblaggio del ponte di comando di una nave da trasporto passeggeri in costruzione dalla Fincantieri e adesso passiamo alla pagina sportiva al calcio di serie D domenica l'Almaio Vento Isfano ha vinto 1-0 contro la Fermana a decidere il derby allo stadio Recchioni di Fermo è stato Sivilla che con il gol messo a segno nel secondo tempo ha regalato tre punti alla squadra Granata e come di consueto dunque guardiamo i risultati e la classifica Almaio Vento Isfano Fermana 1-0 San Nicolò Folgare Vellegra 4-2 Castelfilardo Mateliga 1-0 San Benedettese Amiternina 1-0 Iesina Recanatese 0-1 Chieti Isernia 3-1 Campobasso Vispesero 1-1 Agnonese Monticelli 0-0 il prossimo turno vede l'Almaio Vento Isfano impegnata in casa contro l'Avezzano la classifica in testa sempre la Samb con 68 punti Matelica 54 Almaio Vento Isfano 53 Fanalino di coda Giulia Nova con 22 punti e adesso vediamo anche le pagelle di Sergio Catalani pagelle che vedono Marco Antonini con un 6,5 insieme e in compagnia di Camilloni Verruschi e Favo 7 invece per Nodari e Torta 7,5 per Sivilla che ha anche segnato Gregorini 7,5 Ambrosini e Borrelli insieme Marianeschi 6,5 senza valutazione invece Lucciarini Sartori e Marconi il mister Alessandrini 6,5 il voto che è stato assegnato dal nostro telecronista telecronista che tra poco sentirete per la telecronaca integrale appunto della partita il telegiornale invece Occhio a Notizia finisce qui grazie per la vostra cortese attenzione a voi tutti l'augurio di una buona serata arrivederci